In studio Veronica Puglisi. Buonasera a tutti, lo avete sentito dai titoli di prima pagina, gli inquirenti hanno avanzato dubbi sulla morte per intossicazione alimentare del piccolo Andrea Mirabile. Durante una vacanza, morto durante una vacanza con la sua famiglia Sharmesheik, i genitori potrebbero essere sentiti dai magistrati la prossima settimana all'esigenza della Procure avere un quadro chiaro alla luce di quest'ultimo sospetto. Sarà fondamentale la testimonianza dei genitori del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto durante una vacanza a Sharmesheik, testimonianza che avrà solo dopo la celebrazione dei funerali previsti per domani alle 10 nella chiesa di San Basilio a Palermo. Secondo i magistrati ci sarebbero dei dubbi sulle cause del decesso, così come si era detto in un primo momento da intossicazione alimentare, dubbi anche sulle cause del malore del padre che è stato dimesso oggi dal Policlinico di Palermo. Secondo i magistrati potrebbero essere dunque altre le cause che hanno portato il piccolo Andrea alla morte, dubbi accentuati anche dal fatto che nessun altro cliente del resort, il Sultan Garden, si sia sentito male. La famiglia Mirabile ha cenato al ristorante del resort e non al buffet. Due le inchieste aperte, una dalla Procura di Palermo e l'altra da quella egiziana. La testimonianza dunque di Rosalie Manosperti e di Antonio Mirabile servirà a ricostruire tutti i momenti, i luoghi frequentati e le persone incontrate, fino al giorno in cui poi dopo cena hanno accusato i malesseri. La tesi sostenuta anche dai medici egiziani, che hanno tentato di curare Andrea, non convince molto gli inquirenti per diversi motivi. Né Andrea né i suoi genitori avrebbero avuto dissenterie, sintomo tipico dell'intossicazione. Ed ancora i medici del Policlinico di Palermo, in cui era ricoverato il padre, hanno diagnosticato un'insufficienza renale e un'infezione alle vie urinarie e non problemi intestinali. Il paziente, dicono dal Policlinico di Palermo, ha avuto i sintomi di un'intossicazione che potrebbe essere ambientale o da contatto. Intanto i legali della famiglia Mirabile e dello studio Giambrone Partners chiederanno al resort le immagini delle telecamere interne, che dovrebbero chiarire cosa hanno cenato e il loro stato di salute. Secondo fonti egiziane, la coppia avrebbe avuto sintomi ancora prima di regarsi alla guardia medica. È comunque molto strano per gli inquirenti che nessun altro cliente, che ha cenato al ristorante del resort, si sia sentito male. Fondamentali in questo caso anche gli esiti delle due autopsie eseguite sul corpicino di Andrea, la prima a Sharm Sheik e l'altra a Palermo. Passeranno circa due mesi prima del referto, che sicuramente chiarirà numerosi dubbi agli inquirenti. È stata aperta un'inchiesta interna all'ospedale San Marco di Catania dopo la morte di Domenico Bandiera Monte, il bimbo di quattro anni, morto ieri all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Il bimbo si era sentito male a causa di un virus intestinale. I genitori lo avevano portato lo scorso 30 giugno prima al Garibaldi di Catania, da dove fu dimesso e il giorno dopo al San Marco, da dove è iniziata una vera e propria odissea. La madre di Domenico chiede giustizia e ha presentato un esposto. L'assessorato regionale alla salute ha istituito la commissione di indagini all'ospedale San Marco di Catania, ospedale in cui lo scorso 4 luglio arrivò Domenico Bandiera Monte. Il bambino stava male a causa, secondo il racconto della madre, di un virus intestinale. Il primo ospedale in cui si recarono i genitori fu il Garibaldi. Dopo un primo controllo il bimbo venne dimesso. Le sue condizioni però peggiorarono e questa volta i genitori lo portarono al San Marco. Dopo quattro ore e mezzo, racconta la donna su una sedia, fanno gli accertamenti clinici dai quali è emerso che Domenico aveva il glucosio e il sodio basso. Il bambino e i genitori trascorrono tutta la notte in ospedale. L'indomani gli viene messo un sondino, ma Domenico inizia a stare male. È l'inizio di un'odissea. Viene trasferito al Policlinico di Catania. Dopo sette ore lo trasportano in codice rosso e in fin di vita al Policlinico di Messina. Ed è proprio lì che Domenico è il primo arresto cardiaco. Aveva contratto un'infezione da enterococco, un batterio, dice la madre, che gli ha infettato tutti gli organi. Da Messina urgentemente il trasferimento all'ospedale San Vincenzo di Taormina, i medici gli salvano tutti gli organi, ma gli viene diagnosticata un'edema cerebrale che poi lo porta al decesso. Su mia disposizione, ha detto l'assessore regionale Ruggero Razza, il direttore sanitario dell'ospedale San Marco, Antonio Lazzara, ha già istituito una commissione di indagine interna composta dai direttori delle unità di malattie infettive e chirurgia pediatrica e dalla direzione medica di presidio ospedaliero. Sono certo che la magistratura farà chiarezza su quanto è avvenuto, ma nel frattempo è importante capire se tutte le procedure sono state svolte in modo corretto. I genitori hanno presentato una denuncia e la salma del piccolo è stata posta sotto sequestro. La madre, disperata, chiede giustizia per il figlio e intanto arriva una nota stampa dell'azienda sanitaria provinciale di Messina con cui fanno sapere che Domenico è giunto nel nosocomio lo scorso 7 luglio in condizioni cliniche gravissime. Il bimbo ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica è stato sottoposto a cure intensive, ma il disperato quadroclinico non ha lasciato margine ad alcun miglioramento clinico. Al termine di accurati esami diagnostici, si legge nella nota stampa di una lunga procedura di accertamento di morte encefalica, ne è stato constatato il decesso. Intanto inserata una fiaccolata silenziosa per ricordare il piccolo Domenico a Lampedusa. La mamma è infatti originaria dell'isola e per questo motivo tutta Lampedusa si stringe al dolore della famiglia. Un corteo da Piazza Castello fino in chiesa. Un agguato è stato sventato dai carabinieri di Paternò grazie alle segnalazioni di un cittadino che involontariamente ha ascoltato una conversazione vicino all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale. Arrestato un 21enne. Stava per organizzare un agguato, ma i carabinieri lo hanno arrestato in fragranza. Un 21enne è finito in manette per porto e luogo pubblico di armi e munizionamento clandestini, detenzione di sostanze stupefacente, fini di spaccio e ricettazione. Un agguato sventato dopo la testimonianza di un cittadino che ha involontariamente ascoltato una conversazione tra alcuni giovani, mentre è in attesa vicino all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore. Secondo quanto riferita all'operatore del 112, un giovane aveva confidato al suo interlocutore che sarebbe di lì a poco ritornato a Catania per andare a sparare ad una terza persona con la quale aveva poco prima avuto una violenta lite. La pattuglia si era recata sul posto trovando due paternesi di 21 e 25 anni. Dopo averne effettuata l'identificazione, l'equipaggio si era allontanato. Solo dopo una ventina di minuti, il cittadino ha richiamato i carabinieri avvertendoli di aver rivisto quel giovane, descrivendolo nell'abbigliamento. I militari quindi sono nuovamente intervenuti vicino all'ospedale, sorprendendo il 21enne in compagnia di altri cinque giovani, tra i 17 e i 24 anni, in attesa delle dimissioni del loro amico. L'atteggiamento sospetto del 21enne non ha lasciato dubbi. Sorpreso vicino a un cespuglio in compagnia di un coetaneo, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semi-automatica calibro 7,65, avente matricola a brasa con il colpo in canna e il caricatore inserito. Il giovane ha poi consegnato ai militari una bustina con 10 cartucce calibro 7,65, che aveva prima tentato di occultare. All'interno dell'autovettura sono stati trovati tre dosi di marijuana già confezionate. Il 21enne, che si è assunto la responsabilità del possesso della pistola e della droga, è stato condotto nel carcere di Gela. È stato arrestato Alessio Attanasio, responsabile dell'omicidio di Giuseppe Romano, avvenuto a Siracusa nel marzo del 2021. È stata la Polizia di Stato, su delega della Procura, ad eseguire l'ordinanza con il quale il gruppo del Tribunale di Catania, lo scorso 14 luglio, su richiesta della DDA, ha disposto alla custodia cautelare in carcere. Attanasio, già detenuto in carcere, condannato in passato perché ritenuto al vertice dell'organizzazione mafiosa, Bottaro Attanasio, era stato scarcerato dal carcere di Nuoro per l'espiazione della pena. Attanasio era stato condannato con sentenza di primo grado per l'omicidio di Romano alla pena di 30 anni di reclusione. A Catania una persona colta da malora è stata soccorsa dall'equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera a segnalare la persona in pericolo di vita. È stato l'equipaggio di un motopesca che ha richiesto urgente soccorso via radio. Affiancata all'unità da pesca, si è preceduto al trasbordo dell'uomo sulla motovedetta durante la navigazione di rientro al porto di Catania. I militari della Guardia Costiera sono intervenuti con le previste tecniche di primo soccorso e grazie alla pratica del massaggio cardiaco sono riusciti a rianimare l'uomo che è stato poi affidato al personale sanitario del 118. Parliamo adesso di sopprusi e violenze nei confronti delle donne. Un caso arriva dalla provincia di Ragusa, l'altro da Messina. Nel primo caso si è registrato anche un arresto. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine sono stati scongiurati due epiloghi sicuramente gravi in riferimento ad altrettanti episodi registratisi nei confronti di due donne siciliane. Gli episodi arrivano uno da Vittoria in provincia di Ragusa, l'altro invece da Sant'Alessio Siculo in provincia di Messina. In quest'ultimo caso una donna che aveva scelto di lasciare il marito è stata vessata da quest'ultimo che l'ha inseguita nelle strade della città sin quando la donna ha deciso di raggiungere il lungomare di Sant'Alessio Siculo nella speranza che trattandosi di un luogo più frequentato l'uomo avrebbe desistito dal suo intento. Tuttavia una volta giunta sul lungomare l'uomo si sarebbe avvicinato alla vettura dell'ex moglie nel tentativo di convincerla a cambiare idea. Vestazioni continue che hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. L'uomo è stato colto in flagranza di reato. Su di lui adesso un divieto di avvicinamento alla donna. Grave l'episodio di Vittoria dove un uomo ha deciso di dare a fuoco la cucina della compagna. L'uomo, un 41enne, si è introdotto in modo furtivo all'interno dell'abitazione della 38enne e l'ha minacciata sin quando ha cosparso di liquido infiammabile i mobili della cucina e le ha dato fuoco. I vigili del fuoco di Ragusa in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme propagatesi all'interno della stanza. La vittima, una 38enne, ha regolarmente denunciato l'uomo intanto è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Alla base del gesto, motivi di gelosia nei confronti della compagna. Entrambe le operazioni sono state portate a termine dai carabinieri. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone con l'accusa di aver usato violenza nei confronti di una ragazza ora 19enne ma 13enne all'epoca dei fatti. I militari hanno eseguito un mandato d'arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca. Secondo le accuse, il 42enne, durante la sua permanenza in Germania, si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale sulla minorenne. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sorpreso dalla polizia dopo aver forzato tre distributori automatici del polo didattico dell'azienda ospedaliera Martino di Messina con il figlio di otto anni, un 36enne messinese è stato arrestato per furto aggravato. Tradito dall'allarme anti-intrusione, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato individuato a breve distanza dallo stabile, dalla ricostruzione emerso che il 36enne è gravato da numerosi precedenti penali. Si sarebbe introdotto all'interno dell'edificio attraverso una finestra sul retro, divelta e danneggiata, sequestrati due cacciavite, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, il bambino è stato affidato alla madre. E adesso parliamo dell'attuale situazione dei contagi in Sicilia. Sono 6.905 nuovi casi positivi registrati a fronte di 32.125 tamponi processati in Sicilia, così come si evince dal bollettino del Ministero della Salute riguardo alle ultime 24 ore. Ieri erano 8.178, il tasso di positività scende al 21,5%. La Sicilia dal sesto passa al settimo posto per contagi. I guariti sono 5.062, mentre si registrano 21 vittime che portano il totale dei decessi a 11.380. Sul fronte ospedaliero ricoverati sono 1.076, 25 in più rispetto a ieri. E in terapia intensiva sono 55, 4 in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale a Palermo sono 1.607 casi, a Catania 1.472, a Messina 1.326, a Siracusa 740, a Trapani 705, a Ragusa 510, a Caltanissetta 410, a Grigento 824 e a Denna 870. Riunione in prefettura Ragusa sui disagi relativi alla mancata, erogazione delle mensilità e delle indennità ai lavoratori del Consorzio di Bonifica. Serve un contributo straordinario della Regione per far fronte alle retribuzioni e portare a regime le finanze dell'ente. Urgento in incontro con l'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla. Sono le richieste avanzate dalle sigle sindacali Fai CISL, Flai CGL e Filbi Will nel corso dell'incontro di ieri in prefettura Ragusa per esaminare le problematiche relative agli stipendi dei lavoratori del Consorzio di Bonifica. La Regione per i Consorzi della Sicilia ha stanziato 40 milioni di euro ma per i sindacati ne servono ancora 8 per gestire l'ordinario. L'incontro è stato preseduto dal prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, presenti il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia orientale, Francesco Nicodemo, il direttore generale del Consorzio numero 8 Giuseppe Barbagallo e la deputazione regionale Eblea. Al centro del confronto il forte disagio in cui versano i lavoratori per il ritardo della corresponzione degli emolumenti e delle indennità. 4 le mensilità di quest'anno ancora non erogate, 5 quelle relative al 2018. Come sottolineato al prefetto Ranieri è necessario sollecitare la Regione ad intervenire finanziariamente. Anche i vertici del Consorzio hanno sottolineato di aver fatto ricorso alle anticipazioni di cassa nel limite massimo consentito. Emersa anche la grave criticità relativa alla mancata erogazione con continuità dell'acqua nei comprensori di Ragusa e Modica a causa dell'insufficienza dei servizi prestati nel potabilizzatore di Santa Rosaria. In corso di valutazione accordi con i comuni di Modica e Ragusa per l'allaccio alla condotta di due pozzi che potrebbero garantire un'alimentazione idrica più continua. Per il pieno funzionamento del potabilizzatore inoltre le organizzazioni sindacali hanno dato la propria disponibilità alla proposta del commissario di istituire una turnazione H24 a condizione che siano corrisposti i relativi emolumenti. I cinghiali a Palermo. L'assessore regionale Scilla chiede l'intervento di Roma. Il Governo nazionale deve intervenire subito per fronteggiare l'emergenza cinghiali. Lo sostiene l'assessore siciliano Tony Scilla. C'è la necessità di estendere il periodo di caccia al cinghiale e di effettuare piani di controllo e selezione anche nelle aree in cui oggi non è possibile intervenire. Non si può più temporeggiare su un problema che metta a serio il rischio l'incolumità dei cittadini. L'assessore all'agricoltura poi ancora dichiara si attende il decreto interministeriale il cui testo è stato già presentato dalle regioni alcuni mesi fa contenente provvedimenti per osteggiare la presenza di cinghiali e porre fine a seri rischi legati alla diffusione della peste suina ma anche e soprattutto per evitare ingenti danni alle culture agricole. Interviene così Tony Scilla, assessore all'agricoltura anche a seguito della segnalazione diventata virale sui social di una donna palermitana che denunciava come a Borgo Nuovo, quartiere periferico della città di Palermo fosse arrivata a una famiglia di cinghiali. Una denuncia che poi è stata fatta anche sul piano politico dal consigliere comunale Gelarda. Parliamo della cittadella giudiziaria di Catania il Tar ha rigettato il ricorso che aveva presentato una delle imprese che aveva partecipato al bando di gara e adesso dunque possono essere consegnati i lavori che apriranno il cantiere. Il giudice amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'apparto avanzata dai ricorrenti e rinviato al prossimo autunno il giudizio di merito. Dopo questa sentenza si passa adesso alla consegna dei lavori che porteranno all'apertura di un grande cantiere di rigenerazione urbana per Catania che riguarda appunto la cittadella giudiziaria. La notizia arriva dall'assessorato regionale alle infrastrutture. A far appello era stata una delle imprese che avevano partecipato alla procedura di affidamento curata dal genio civile e dall'Ureghetneo. Il Tar, rigettando il ricorso, ha fissato la discussione nel merito per il prossimo 19 ottobre. Il genio civile procederà adesso alla firma dei contratti e alla consegna dell'opera. Quando ci siamo insediati, ha detto l'assessore Falcone, avevamo trovato l'ex palazzo delle poste ridotto ad uno scheletro abbandonato e un progetto, quello della cittadella, chiuso in un cassetto con oltre 40 milioni di euro inutilizzati. Il governo musumece ha rimesso ordine alla vicenda e liberato la città da quel grande edificio degradato, finalmente demolito. Abbiamo poi mandato in gara l'opera, recuperando decenni di tempo perduto, dopo aver dato vita ad una progettazione realmente partecipata della futura infrastruttura, come riconosciuto dagli ordini professionali. La Regione, conclude Falcone, è attore protagonista del più grande intervento di risanamento urbano che Catania vedrà svolgersi nei prossimi mesi. Parliamo adesso della premiazione agli studenti meritevoli dell'Istituto Galilei Campailla di Modica. Premiazione delle eccellenze questa mattina all'Istituto di istruzione superiore Galirei Campailla di Modica per gli indirizzi classico, scientifico ed artistico. Su 221 maturandi, 51 hanno ottenuto risultati strabilianti, ottenendo nello specifico in 19, 100 e lode. 32 invece la votazione di 100 su 100. A questi vanno aggiunti anche 46 alunni che hanno ottenuto voti dal 90 al 99 su 100. Il dirigente scolastico, il professore Sergio Carruba, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato i docenti per il lavoro svolto. Risultati lusinghieri per il Galilei Campailla, liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico, hanno totalizzato quest'anno gli esami di Stato ben 51 alunni e alunne che hanno conseguito 100 centesimi e 19 di questi 51 ragazzi hanno avuto anche la lode. Quindi sono dei risultati assolutamente lusinghieri che proiettano il Galilei Campailla sul livello delle eccellenze, non soltanto a livello locale, ma a livello siciliano. Ha preso il via a Cavadaliga il Scicli Music Fest. Nasce lo Scicli Fest a Cavadaliga, non in piazza e neanche sul lungomare, ma in via Elena di Troia 21. Uno spazio che proietta l'ascolto e non permette allo spettatore di distrarsi in altro o ai passanti di disturbare un momento di pura musica. Ad esibirsi Tony Esposito, che così ha parlato della serata e della città di Scicli, a cui tanto si è legato il suo amico Renzo, patron della serata. Conosco Renzo da un bel po' di anni, non vi dico quanti, ma insomma diciamo contate da 30 al centro. Per cui ritrovarlo qua mi ha fatto felice. Lui da Roma a un certo punto ha deciso di approdare in Sicilia, in questo posto, che sono dei spazi enormi, perché oltre a quello che vedete dentro c'è un'altra casa, poi c'è un'altra, devo dire che è un posto bellissimo. E' dedicarsi ancora di più alla musica. Questa sera e domani ci sarò io, ci saranno amici miei gezzisti, ci sono stati, e voglio nominare anche il mio amico Dario Roscilione, che è uno dei più grandi bassisti d'Italia. Quando arriva Dario? Per a settembre. A settembre. Per cui sono stato felice di aver ritrovato un bel posto, un amico che non mi devo dare tanto tempo, in una situazione in cui ricordo anche un amico, Pino Daniele. Il 432 Hertz Giardino degli Olivi Musica, questo è il nome della location, era una vecchia casa che Renzo Nguyen, fonico e musicista, che ha collaborato con i più importanti artisti italiani, ha scelto di trasformare la vecchia casa, il rifugio dal caos della grande città. Un rifugio che adesso diventa punto di riferimento per chi nella leggerezza trova strumento di condivisione e amore, con, alla base, il nutrimento della musica. Ho conosciuto Scigli, perché con commedie musicali Dono e Cucchiaro ho fatto anche uno spettacolo a Treditalia, qui a Scigli. Poi a Palermo, cioè ho fatto tutta la Sicilia, perché si lavorava allora con un circuito etico, ente teatrali italiano, e quindi ti davano un sacco di date, quindi si lavorava parecchio, ma anni e anni fa. Poi ho fatto il fonico a Nero Zero, ho fatto il fonico a Fino della Pannoglia, ho fatto il fonico a vari artisti di livello e ho deciso di spostare l'attenzione qui, che mi dicono che non c'è niente e io sto cercando di fare questo a un livello più alto possibile, insomma, quindi ne vedrete delle belle sicuramente qua. Prossimi appuntamenti nel mese di luglio, Mia 15, 16, 17, Francesca De Fazzi 22, 23, 24, Andrea De Luca 29, 30. Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, sono seriamente minacciate dall'attività umana e dall'inquinamento e si stima che ogni anno circa 150.000 finiscano catturate accidentalmente dagli attrezzi da pesca. Sono le tartarughe caretta caretta che popolano il Mediterraneo, l'ultimo salvataggio nella spiaggia di Maganugo. Mari oceani invasi dalle microplastiche, un inquinamento senza fine che mette a serio rischio la specie marine in via di estinzione. Negli ultimi decenni, secondo il WWF, la produzione e il consumo di oggetti in plastica ha visto una crescita esponenziale e ha prodotto fenomeni di inquinamento sulla terraferma e in mare. 450 milioni di tonnellate di plastica è prodotto ogni anno, 8 milioni di rifiuti di plastica finiscono ogni anno negli oceani. 700 specie sono state interessate da fenomeni di inquinamento di materie plastiche, fra queste le tartarughe caretta caretta che popolano il Mediterraneo. Per l'associazione 150.000 il numero di tartarughe marine è catturata accidentalmente ogni anno. 35% degli animali recuperati in Italia aveva ingerito rifiuti in plastica. La presenza di plastica sulle spiagge può compromettere anche le lindificazioni. La sabbia in cui mamma tartaruga depone le sue uova in presenza di frammenti di plastica non mantiene la stessa umidità e modifica la temperatura con ripercussioni sullo sviluppo e la schiusa. L'ultimo caso di salvataggio è caduto nella spiaggia di Maganugo. Un giovane esemplare di tartaruga marina della specie caretta caretta è stata a soccorso e salvata due giorni fa. L'esemplare si trovava alla deriva in superficie con il collo e una pinna interiore incastrata e di un groviglio di corda e plastica. A salvarla sono stati due professori Daniele Ciccerella e Giovanni Iemmolo dell'Istituto Superiore Archimede di Modica in mare per una lezione di vela. Issata a bordo e portata a riva la tartaruga è stata liberata dalla matassa e prontamente rilasciata a largo. La tartaruga non presentava lesioni o ferite anche se il fardello in cui si trovava vinghiata ne avrebbe determinato una triste fine senza il provvidenziale intervento. Tanti i bambini e i villeggianti che hanno assistito all'evento e festeggiato la riguadagnata libertà dell'esemplare. Apertura di stagione per il Lido della Polizia a Caucana Ha riaperto a Caucana il Lido della Polizia di Stato in uno dei tratti di costa più belli della provincia di Ragusa il Lido rinnova la possibilità per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno e anche agli appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche della provincia di fruire di servizi presso uno spazio balneare dove poter trascorrere le proprie vacanze estive. Anche quest'anno siamo arrivati alla stagione balneare stagione estiva e come da tradizione oggi ci ritroviamo qua con le autorità con i gentili ospiti per inaugurare questa stagione balneare per fortuna con meno restrizioni il Lido quest'anno si è abbastanza rinnovato grazie anche a dei contributi che ci dà il nostro Ministero per offrire non solo ai poliziotti ma anche a tutto il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno e anche ai pubblici dipendenti della provincia di Ragusa che vengono invitati ogni anno dalla questura di Ragusa un servizio adeguato una splendida spiaggia nel Lido di Caucana in questa insomma baia che è una delle più belle della costa Iblea e tutto sommato serve anche per dare sicurezza ai bagnandi dare sicurezza ai turisti insomma ai cittadini che transiano da queste parti perché i poliziotti dico sempre che sono in servizio comunque anche quando sono in vacanza Dopo dieci anni torna il prossimo 24 luglio sul palco a Medeo Fusco che racconta a Frida Calodo l'evento si terrà presso Cava Gonfalone in prima nazionale vedrà la partecipazione di Dario Adamo e Strania la serata prevede l'inizio dello spettacolo per le 21.15 ma sarà preceduto alle 20.45 dalla visita guidata di Cava Gonfalone secondo Memorial Orazio Iabichino un giorno per Orazio due forti braccia per una forte amicizia questo è il claim dell'evento che vuole rendere omaggio ad Orazio il giovane modicano morto a soli 21 anni l'11 maggio del 2021 a causa di una caduta accidentale dal trattore incontrata a Zappulla Gisana a Modica il padre di Orazio Carmelo Iabichino ha organizzato per il secondo anno consecutivo il Memorial che porta il nome del figlio proprio in suo ricordo l'evento si terrà per tutta la giornata di domani alle 9 del mattino l'oasi del re a Marina di Modica la prova di forza traino aperta a tutti i trattori agricoli ci si può iscrivere sul posto a partire dalle 9 poi l'evento clou a partire dalle 19.30 in piazza Mediterraneo sempre a Marina di Modica con l'intorneo di braccio di ferro all'insegna dell'amicizia anche in questo caso per l'iscrizione a partire dalle 15 sempre sul posto l'evento organizzato dall'associazione No Profit Orazio Pio Iabichino e con questa notizia è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento di serata su video mediterraneo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti